Brembo presenta Fernanda Alonso e l'Aston Martin sono consapevoli di partire a Monte Carlo con i favori del pronostico perché la AMR23 è la monoposto che grazie alle sue pancie scavate riesce a generare una quantità di carico superiore addirittura a Red Bull alle basse velocità e questo è determinante su un circuito con la media velocistica in assoluto più bassa e soprattutto diventa un supporto determinante nel tratto centrale che va dal Mirabeau fino al Portier ma soprattutto c'è un aspetto psicologico a favore di Fernando Alonso che sa di poter rischiare molto più di Verstappen e soprattutto di Perez perché non deve guardare tanto la classifica e nel giro di qualifica poter rischiare passando vicino ai muretti e soprattutto tagliando sui cordoli vuol dire fare meno metri e essere molto più veloci in uscita curva l'ultimo aspetto è proprio il setup estremo che si potrà permettere l'Aston Martin sul circuito di Monaco ebbene lo vogliamo scoprire con la nostra analisi tecnica con i supporti TRD di Crono GP La Red Bull rimane un obiettivo troppo ambizioso per l'Aston Martin ma Monaco potrebbe rivelarsi un'opportunità davvero unica Il circuito, estremamente lento, tortuoso e con asfalto stradale potrebbe essere l'occasione per annullare il gap tra RB19 e AMR23 esaltando la capacità di Alonso sui cordoli del Principato Dopo quattro podi vogliamo di più, almeno un secondo posto forse a Monaco o a Barcellona abbiamo una possibilità La AMR23 risponde al meglio nel misto grazie a caratteristiche di disegno che prediligono carico a bassa velocità e un eccellente sistema elastico delle sospensioni L'assetto Aston Martin, piatto in frenata e curva, mantiene il fondo ad altezza costante e più vicino alla pista assicurando, anche nel lento, elevato effetto suolo In curva, il rollio agisce sulla cassa a veicolo ma viene neutralizzato dalla sospensione contrattiva che riporta carico sulla ruota interna, migliorando l'aderenza Il pilota può quindi tagliare sui cordoli senza subire un eccessivo alleggerimento del pneumatico interno grazie ad una migliore distribuzione del grip sulle quattro posizioni Agile nel lento, grazie alle sospensioni, la AMR23 riduce la sensibilità alle variazioni di assetto nel misto conservando una incidenza di ali e fondo costante Il flusso che alimenta il sottovettura assicura una depressione estesa su un'ampia porzione del fondo a vantaggio di un ottimale bilanciamento aerodinamico Siamo riusciti a creare una macchina competitiva in aree diverse possiamo quindi metterla a punto in base a ciò che riteniamo sia ottimale per le caratteristiche di ogni circuito Dan Fallows e Luca Furbatto hanno quindi gli strumenti e soprattutto la base tecnica per tentare un assetto estremo sulla AMR23 nel tentativo di estrarne il massimo potenziale sul circuito in assoluto più anomalo del calendario Grazie a tutti!